E cambiamo adesso argomento. Artista abruzzese Franco Summa ha inaugurato a Borgotufi di Castel del Giudice il monumento futuristico denominato la fanciulla del borgo, ma siamo andati a scoprire di cosa si tratta. Vediamo. Sindaco, questo monumento così grande e così bello è un po' la cidiegina sulla torta di questo posto incantevole Borgotufi. Beh, un'opera d'arte che arricchisce Borgotufi, arricchisce la nostra comunità, arricchisce il territorio e poi in perfetta sintonia con la filosofia nostra che abbiamo sempre portato avanti di rigenerare i luoghi, non soltanto dal punto di vista fisico, ma io dico anche e soprattutto dal punto di vista culturale. L'opera d'arte ci casca proprio a pennello. Poi perché una donna? Ma la donna, spesso abbiamo parlato che le donne possono cambiare il mondo e c'è sempre più bisogno dell'approccio, dell'amore delle donne nella vita civile e della comunità. E poi una donna che guarda il territorio, la valle del Sangro, che possa essere di buon auspicio per tutti. Ci hanno detto che il maestro, gli hanno fatto conoscere questa località con delle fotografie e lui, guardando, osservando queste foto, ha pensato a questo monumento realizzato in questa maniera. Prima che morisse aveva pronto il progetto, poi è stato realizzato. Sì, sì, so che gli ultimi giorni della sua vita stava in ospedale quando ha visto la location e su questo ha pensato che la donna, una sua fanciulla, potesse svolgere la funzione così di guardiana del nostro territorio. Noi siamo molto lieti, molto onorati, anche con un po' di responsabilità del nostro piccolo comune, del nostro borgo, di ospitare un'opera così importante che tanto sicuramente farà parlare della nostra comunità e del Borgo Bluetooth in particolare. Sindaco, a Frambò dovremo sentire l'odore, il sapore delle mele. Come stiamo andando? Beh, siamo un po' in qualche giorno di ritardo, però settimana prossima cominceremo la raccolta e poi saremo alla grande festa del 10 di ottobre, che faremo in una versione molto esperienziale, sempre in sintonia con la normativa anti-Covid, faremo la festa della mela. Ci sarà il treno? Il treno in modalità ridotte e sempre in modalità così conformi alle normative anti-Covid. Quindi appuntamento il 10 ottobre? Il 10 ottobre è sabato, lo faremo di sabato, anche perché l'11 c'è il Giro d'Italia che arriva a Roccaraso e quindi abbiamo previsto che questa edizione esperienziale la facciamo di sabato. E poi magari possa essere anche l'occasione che, se va bene, il prossimo anno faremo oltre la festa normale e il giorno prima faremo le esperienze, perché il turismo esperienziale può e deve essere una grande opportunità nel nostro territorio. Lo scorso anno più di mille persone hanno mangiato in piazza quest'anno? Sì, lo scorso è stata esageratamente tanta gente. Ci aspettiamo di meno e forse è meglio anche questo, che ci ammi di meno, perché è un anno particolare. Ma noi vogliamo continuare con l'esperienza, con la data e con questo progetto che vogliamo portare avanti. Neanche il Covid ci possa fermare sempre rispettando la normativa.